Vi devo anche dire che si sta cercando a fatica, con tanta fatica di correggere, perché probabilmente non ce ne siamo resi conto solo noi qua in provincia di Sondria, ma evidentemente in tutta la nazione Italia ci si rende conto di questa situazione e spesso ci troviamo in una situazione veramente...